Digitalizzare le piccole e medie imprese a retina e diffondere la cultura del digitale per far conoscere così anche all'estero le eccellenze produttive italiane. Questi gli obiettivi del progetto Made in Italy, eccellenze in digitale, promosso da Google in collaborazione con Union Camere. I dati statistici ci confermano ovunque che tutte quelle imprese che utilizzano il digitale, quindi l'e-commerce, i siti web e tutto il resto, crescono in termini di fatturato e di export e questo che ci sta ulteriormente a cuore è che crescono anche in termini dal punto di vista occupazionale. Protagonisti del progetto 12 giovani che attraverso la realizzazione di seminari formativi, teorici e pratici gratuiti contribuiranno al processo di digitalizzazione delle imprese, 50 in tutto quelle che parteciperanno. Parleremo in pratica di presenza online perché ci vuole una base da cui partire, parleremo di commerce, parleremo ovviamente di motore di ricerca perché costituiscono quello che è la cosa più importante del web a cui le persone accedono ogni giorno, social media fondamentale, tutti noi italiani sono super appassionati di social media e passano circa un'ora al giorno su Facebook. I seminari si pongono come obiettivo dunque quello di colmare il gap digitale attualmente registrato, è infatti ancora forte il divario tra le produzioni made in Italy di qualità e la loro presenza online. Purtroppo l'Italia è il 25esimo paese d'Europa ad avere questa sensibilizzazione sul digitale, le nostre imprese sono molto indietro tant'è che solo il 16% delle imprese italiane ha un sito che consente di agevolare l'e-commerce e l'e-commerce oggi è una risorsa straordinaria se si pensa soltanto che 21 milioni di italiani hanno acquistato nel 2015 un bene tramite e-commerce e che 31 miliardi di euro è l'importo europeo di questo tipo di commercio.